Buon pomeriggio a tutti ed eccoci ritrovati a questa lezione di tecniche di programmazione. Andremo a sviluppare un altro esercizio insieme, in particolare credo che questo sia uno degli ultimi esercizi guidati solo sulla parte della ricorsione. Finalmente direi andiamo a vedere un esercizio un po' più divertente, non solamente algoritmico. Andiamo a sviluppare un simil Razol. Allora io immagino che tutti voi abbiate almeno giocato una volta a questo gioco che era molto in voga qualche anno fa, non so se lo sia ancora adesso sinceramente. Ma per chi non lo sapesse il gioco è molto semplice, è data una matrice di lettere, 4x4 in questo caso. Lo scopo del gioco è trovare tutte le parole contenute in questa matrice che si possono formare tramite dei percorsi di lettere adiacenti. Ora qui purtroppo le lettere sono tutte R, sono inizializzate così, ma supponiamo di avere lettere diverse, io con lettere adiacenti vado a formare delle parole di senso compiuto in italiano e ovviamente più parole trovo, più punti faccio e una possibilità di vincere le partite. Diciamo che noi non svilupperemo questo gioco per poterci giocare, ma cercheremo di sviluppare una soluzione in cui sia il programma che giochi e quindi useremo il programma per trovare tutte le possibili parole contenute in una matrice Razzle, diciamo così. Quindi potremmo usare il programma, diciamo così, per barare e vincere le nostre partite in pochi secondi, perché il programma può trovarci per noi in modo ottimo tutte le parole, in modo ricorsivo tutte le parole che sono contenute nella matrice. Qui il progetto di base che trovate su Github è già abbastanza corposo, perché altrimenti non avremmo tempo di sviluppare tutta la soluzione insieme. Vediamo subito qui, visto che siamo sull'interfaccia grafica, che cosa contiene l'interfaccia grafica. C'è questa area di testo che possiamo utilizzare per testare il nostro gioco, abbiamo detto che non siamo noi che in realtà vogliamo giocare, però ci servirà per vedere se gli algoritmi che facciamo funzionano, quindi se io inserisco qui una parola col pulsante prova posso vedere istantaneamente se la parola è contenuta nella matrice oppure no. Il pulsante reset serve per resettare la matrice, quindi diciamo così per fare una nuova partita. Il pulsante risolvi tutto sarà poi l'ultimo pulsante che andremo a sviluppare, che è proprio quello che dirà al programma ok parti e dimmi tutte le parole che sono contenute nella matrice sotto. Abbiamo qui una casellina di testo che useremo per stampare dei messaggi, chiamiamoli così, di log per debug, e poi un'area di testo finale dove andremo a stampare il risultato, quindi tutte le parole contenute nella matrice. Questa è l'interfaccia grafica, la chiudo. Controllo solo che il software di registrazione funzioni, sì. Dicevo, vi consiglio caldamente di partire dal progetto di base perché ora andremo a spendere qualche minuto per analizzarne il contenuto visto che è già, dicevamo, abbastanza corposo. Allora, nel gioco di Razzle dobbiamo trovare tutte le parole contenute nella matrice, però ovviamente parole che abbiano un senso, un senso compiuto, in questo caso per noi in italiano, quindi dobbiamo avere la possibilità di controllare queste parole che andiamo a trovare. Per fare questo utilizziamo un database che mi pare abbiate già usato in precedenza, il database è contenuto nella cartella, il dizionario di tutte le parole italiane, dovreste averlo usato per il laboratorio sugli anagrammi. Riguardo a questo dizionario c'è già il package, il solito package db, dove ci sono le due classiche classi. La db connect, che si occupa di connettersi al database. Adesso sì che dovreste già aver fatto la parte sul connection pooling, quindi ho messo questa classe sfruttando le librerie che avete visto nelle ultime lezioni col professor Corno, ma sostanzialmente il compito di questa classe è sempre lo stesso, quello di restituirmi delle connessioni al database. Ovviamente la password cambiate la secondo le vostre configurazioni sui vostri pc. Questa è la classe db connect, poi c'è la classe dao, semplicissima, in questo caso ho un solo metodo che mi restituisce tutte le parole presenti nel dizionario, così che io possa portarmele in pancia nel programma e controllare che le mie parole che estraggo dalla matrice siano presenti nel dizionario. Questa è diciamo la parte facile. Andiamo a vedere che cosa ci offre il resto del progetto base. Abbiamo sviluppato nel package model alcune classi di supporto, strutture dati apposite per questo programma, per semplificarci un po' la vita. Partiamo dalla classe pause. La classe pause semplicemente è una classe che io utilizzo per identificare la posizione di una casella del gioco. Qui stiamo parlando di una matrice, quindi abbiamo una matrice bidimensionale, quindi abbiamo due indici, l'indice di riga e l'indice di colonna. Allora per semplificarmi la vita ho creato questa classe che semplicemente mi va a modellare questi indici, quindi ogni posizione e ogni istanza della classe posizione è identificata dall'indice di riga e dall'indice di colonna. E vedremo dopo che useremo questa classe nelle mappe per costruire la nostra matrice. Agli hash code e gli equals, ovviamente basati sulla colonna e sulla riga, quindi due istanze di questa classe sono uguali, ovviamente se la riga e la colonna sono uguali. Board, invece, è la mia matrice, la classe che io utilizzo per modellare la mia matrice di gioco. Che cosa contiene? È usata per memorizzare le lettere presenti nella scacchiera di razzo, nella matrice. Che cosa contiene? Contiene una lista di posizioni, le posizioni disponibili in questa matrice. Avremo la posizione 0, 0, 0, 1 fino alla 3, 3, visto che qui gli indici partono da 0. E oltre a questa lista di posizioni che ci può tornare utile, abbiamo questa che è la matrice vera e propria, che è modellata come una mappa, una mappa di celle, in cui abbiamo come chiave una posizione, come valore, attenzione bene qui, potremmo avere una stringa sicuramente, perché in ogni cella c'è un singolo carattere, su questo siamo d'accordo. Per semplificarci un po' la vita, abbiamo pensato di, al posto di utilizzare delle stringhe semplici, di utilizzare delle string property. Allora, il professor Corno ve le ha accennate brevemente, queste property, parlando del pattern model view controller. In sostanza, utilizzando queste proprietà, queste string property, possiamo fare in modo che il bottone sia collegato direttamente a questi valori salvati nelle string property, tramite un binding. Questo vuol dire che ogni volta che un carattere in una string property cambia, questo cambiamento si riflette in modo automatico nell'interfaccia grafica. Possiamo aprire anche le slide del pattern model view controller. Eccolo qua. All'inizio, ecco qua, le properties e il binding. Quindi possiamo connettere la proprietà del bottone, la proprietà testuale del bottone, con una nostra proprietà, la string property che vi ho fatto vedere. Facendo questo binding, tutte le volte che cambia una, cambia anche l'altra. Quindi tutte le volte che cambierà la string property, la string property è essenzialmente una classe, una proprietà che wrappa una stringa. Quindi tutte le volte che cambierà questa stringa, grazie a questo binding, anche il testo del bottone cambierà. È semplicemente un modo per semplificarci la vita ed evitare di scrivere più codice del necessario. Quindi dovrei sempre fare una set text, altrimenti aggiuntiva. In questo caso fa tutto lui da solo tramite questo binding. Ora lo vediamo bene. Comunque pensate a questa string property come una stringa che ha delle proprietà particolari in più. L'unica differenza rispetto a una stringa è che utilizzeremo dei metodi particolari. Ad esempio, eccolo qui, useremo il metodo set al posto di, ad esempio, un uguale stringa. Usiamo il metodo set, il metodo set è get per leggere e scrivere il valore. Per il resto modella, wrappa una stringa, in questo caso un singolo carattere. Vedremo dopo l'esempio del binding. Quindi, ripetiamo, questa è la struttura dati che mi modella la mia scacchiera. Una mappa in cui la chiave è la posizione e il valore è una stringa wrappata in una proprietà, diciamo così. Poi abbiamo la size, che nel nostro caso sarà sempre direi 4, che indica la grandezza della matrice, ma in questo modo teniamo il codice abbastanza generico, volessimo anche mettere su un gioco razzle con una scacchiera più grande, sarebbe facile farlo. Che cosa fa il costruttore? Crea una scacchiera della dimensione specificata. Quindi imposta la size, va benissimo. Crea le posizioni, ok? Quindi con un doppio ciclo for, per le righe, per le colonne, va a creare degli oggetti pose che indicheranno le posizioni della mia scacchiera, le mette nella lista positions. E poi crea la scacchiera, quindi crea la mappa cells. E poi per ognuna delle posizioni create in precedenza, va a mettere nella mappa la posizione stessa associata al valore. In questo caso una string property. Questa è un'altra differenza con le stringhe normali. Avessimo avuto una mappa di stringhe normali, qui magari avremmo messo all'inizio una stringa vuota. In questo caso, essendo la string property una classe che verrà per una stringa, dobbiamo fare una new. Una new di string property, in questo caso all'inizio vuota. Ok? Vediamo gli altri metodi che ci offre questa classe, già fatti per noi. Questo metodo fornisce la string property corrispondente alla cella specificata. D'accordo? Al posto di restituirci, data una posizione, al posto di restituirci il singolo carattere contenuto, ne restituisce la string property che lo include. Sarà utile, useremo questo metodo dal modello ad esempio. Poi abbiamo un metodo per ottenere tutte le posizioni lecite sulla scacchiera, quindi ritorna la lista di posizioni. Il metodo reset, che useremo associandolo al bottone di reset per resettare la scacchiera, che cosa fa? Semplicemente per ogni posizione nella scacchiera va a generare un carattere casuale. Ok? E questo carattere casuale lo assegna alla string property in questo caso, quindi al posto di un uguale dobbiamo usare il punto set, ma non è che ci cambi molto, della mia board. Attenzione che questa set, come vi dicevo, grazie al binding che c'è con l'interfaccia grafica, questo binding ve lo posso anticipare, è nel controller. Vediamo un po', eccolo qua. Grazie a questo binding qua, dopo lo andiamo ad analizzare, questa set che in realtà setta un valore di una classe del modello, si riflette automaticamente sul bottone. Cioè il bottone cambia il carattere, visualizza il carattere giusto grazie già a questa set, cioè noi nel controllore non dobbiamo più fare la set text sul bottone, lo fa lui in automatico. E questo è il modo con cui semplifica, diciamo così, la scrittura del codice. Quindi se io lancio un attimo il programma, il bottone reset tramite il modello arriva alla board, chiama il metodo reset della board che mi genera i caratteri casuali, fa la set e quella set viene riflessa, diciamo così, sul testo dei bottoni. Ovviamente questa generazione dei caratteri casuali è un po', diciamo così, all'acqua di rose perché, come sappiamo, le lettere nelle parole, nel vocabolario italiano non hanno tutte la stessa frequenza, no? Quindi qui stiamo generando delle matrici dove supponiamo che ogni carattere abbia la stessa frequenza. In realtà un carattere come la X nel linguaggio italiano lo troviamo poco, no? E quindi qui il rischio è di generare delle matrici in cui si trovino poche parole di senso compiuto. Quindi per farlo bene dovremmo generare i caratteri in modo un po' più furbo, generare casualmente questi caratteri. Ma per il momento teniamo buono questa generazione veramente, veramente casuale. D'accordo, torniamo alla classe board. C'è ancora un metodo che ci tornerà utile più avanti, che è questo. Data una posizione nella matrice, nella board, vengono restituite tutte le posizioni adiacenti. Quindi rilancio. Data, ecco qua, data questa posizione qui, dove c'è questa lettera C, vabbè sono tutte C qua. Prendiamo questa, questa E. Data questa posizione che sarà la riga 2 colonna 1, data la posizione 2, 1 mi restituisce tutte queste posizioni che sono quelle adiacenti. Ok? Questo sarà utile nel processo ricorsivo che andremo a sviluppare. Perché vi ricordo che cercheremo le parole le cui lettere siano, si possano comporre tramite un percorso, diciamo così, di lettere adiacenti. Benissimo. Queste classe pose, classe board modellano la scacchiera. Poi c'è il modello che al momento ha molto poco, ha ovviamente un riferimento alla board, alla scacchiera. Ha un riferimento al dizionario per poter controllare la validità delle parole che troviamo. Ha un'altra ulteriore string property che in questo caso è relativa al, ora sto lanciando il programma di nuovo per farvi vedere, ha questo status message qui, questa casella di testo che noi utilizziamo per stampare dei messaggi di log, chiamiamoli così. Quindi di nuovo è una string property per semplificare, per non dover sempre fare la set text, quindi prendetelo per, come una semplificazione, ma potrebbe, poteva essere benissimo una stringa e poi collegate in modo diverso all'area di testo. Il controllore in cui tra le varie cose si va a creare il DAO e si va a leggere il dizionario e se lo salva e poi stampa quel messaggio che avete visto, il primo messaggio di log che stampava 700.000 parole lette. Quindi di nuovo questa set qui fatta su una string property del modello viene automaticamente riflessa sull'interfaccia grafica grazie a un binding e non dobbiamo più nel controller fare niente, tolto il binding iniziale. Poi abbiamo il metodo per resettare che chiama ovviamente il reset della board, stampa un altro messaggio, un altro log e altri, altri metodi che ci servono come supporto per il programma. Questo era il package model, abbiamo ancora il controller che in realtà è praticamente vuoto, contiene ovviamente i metodi per essere settati dal main, quindi scusate, contiene il metodo per il settaggio del model, il solito metodo che facciamo sempre e poi come strutture dati che cosa possiede? Possiede questa mappa che ci serve come corrispondenza tra gli elementi dell'interfaccia grafica e le caselle della board. Allora noi per semplicità come avete già visto dal file XML abbiamo pensato di strutturare la matrice come un insieme di bottoni, quindi ogni bottone, vedete che abbiamo qui 16 bottoni, ogni bottone corrisponde a una cella della matrice, della scacchiera. Quindi nel controllore ci servirà un mapping tra ogni bottone e la corrispondente posizione nella scacchiera. Dov'è questo mapping? Ne teniamo traccia in questa mappa in cui la chiave sono le nostre solite posizioni e il valore sono i bottoni corrispondenti. Nel set model noi andiamo a crearci questa mappa e andiamo a inserire per ogni posizione valida, qui siamo obbligati a fare questa cosa qui manualmente, ma per ogni posizione valida andiamo a inserire il riferimento corretto del bottone. Le ultime due serie di istruzioni sono invece relative al binding di cui vi ho già parlato direi a sufficienza per riprenderlo un attimino. Qui abbiamo che per ogni bottone della nostra mappa letters che abbiamo appena creato, per ogni bottone andiamo a prendere la text property del bottone, che è una proprietà che esiste di per sé, esiste già nei bottoni in JavaFX e ne andiamo a fare il binding con che cosa? Con la string property che vi ho fatto vedere prima di ogni casella nella classe board. Quindi vado a prendermi la board e poi chiedo la string property per la cella che sto considerando. Questo binding tra il testo del bottone e la string property della mia classe board fa sì che tutte le volte che cambia questa string property nella mia classe board, questo cambiamento si riflette in automatico sul testo visualizzato dal bottone. Stesso binding facciamo per il messaggino di log. D'accordo, direi che come spiegazione iniziale del progetto base ci abbiamo già impiegato abbastanza e possiamo partire a risolvere il nostro problema. Direi di farci come sempre un file testuale dove andiamo a scrivere, ad appuntarci le nostre prime idee per risolvere il problema. Quindi nuovo, file di testo, magari non senza nome ma con un nome, diciamo così, nuovo, file, ok, chiamiamolo ricorsione.txt. Possiamo immaginarci due modi diversi, due modi principali di risolvere il nostro problema. Un approccio un po' più facile che è quello che vedremo in questo video e un altro un po' più complicato. Partiamo dal primo approccio. Che cosa vuol dire per noi risolvere il problema? Beh, innanzitutto potrebbe voler dire capire se una determinata parola che ci inventiamo noi, ad esempio pippo, faccia parte o meno della nostra griglia. Dal momento in cui io sono capace di capire se una parola è presente nella griglia, Beh, io so quali sono tutte le possibili parole valide, sono quelle contenute nel dizionario. Beh, io provo per tutte queste parole a vedere se sono contenute oppure no all'interno della griglia e alla fine del mio processo ho tutte le parole valide che sono contenute nella mia scacchiera, nella mia matrice di razzol. Questo è il primo approccio in cui appunto il passo principale, il passo chiamiamolo ricorsivo, è quello di capire se una determinata parola è presente oppure no nella griglia, dopodiché applico questo processo ricorsivo in modo iterativo per tutte le parole del dizionario. Non saprei dire a priori se sia un approccio efficiente oppure no, probabilmente non è l'approccio più efficiente, però essendo il problema di razzol abbastanza limitato, già solo la matrice è solo 4x4, forse ce la caviamo, direi che sono sufficientemente sicuro che ce la caviamo con questo primo approccio. Il secondo approccio che se volete potete esplorare voi come esercizio, lasciatemi lanciare il programma e generare una matrice, è quello di provare tutti i possibili percorsi sulla griglia di razzol. Per ogni lettera, partendo ad esempio da qui, per ogni lettera mi chiedo, esiste una parola di? Se sì, metto da parte. Poi continuo. Esistono parole che iniziano per di? Sì? Sicuramente sì, allora continuo. Esploro il Q. Esiste una parola di Q? Direi di no. Esistono parole che iniziano per di Q? Tanto meno. Faccio backtracking. Provo con DL. Esistono parole di L? Esiste una parola di L nel dizionario? Direi di no. Esistono parole che iniziano per di L? Supponiamo di sì, allora continuo. E vado avanti. DLQ, DLS, DLV, poi torno indietro, eccetera. E questo lo faccio per ogni cella della matrice. Quindi esploro tutti i possibili percorsi. Ovviamente non li esploro tutti. Se mi sto accorgendo che sto andando in una direzione palesemente sbagliata, perché non ci sono parole che iniziano con quelle lettere, è inutile continuare. E quindi mi fermo e torno indietro. E quindi non esploro tutti i possibili percorsi, però a seconda delle mie scelte vado ad esplorare sufficientemente tutta questa griglia. Questo è il secondo approccio. Come detto, torniamo all'approccio 1, che è quello concettualmente un po' più semplice, che prevede di riuscire a dire, data una parola, Pippo, riuscirà a dire se questa parola è contenuta in qualche modo qui all'interno della nostra matrice. Se questo è vero, beh, allora quella parola la tengo come valida all'interno della mia matrice. Applicando questa procedura per tutte le parole del dizionario, alla fine avrò la soluzione del mio gioco Razzle per questa determinata matrice. Ok, quindi possiamo cercare di mettere per scritto, come al solito, il ragionamento che ci guiderà nel risolvere questo esercizio. Partiamo dal problema. Che input abbiamo in questo caso al nostro problema? Beh, se seguiamo l'approccio 1, fatemi solo controllare che il mio software di registrazione funzioni, perché questa lezione l'ho già registrato una volta e poi mi sono accorto alla fine di non aver avviato la registrazione. E quindi ora mi sto assicurando che tutto funzioni per non spaccare il computer. Dicevo, quali sono i dati in input al nostro problema? Beh, sicuramente la stringa da riconoscere. Chiamiamola parola. Quindi, prima ho usato l'esempio di Pippo, tutte le parole che vogliamo testare, vedere se sono contenute nella nostra matrice. Un altro input al nostro problema sarà sicuramente il contenuto della board, la nostra matrice. E poi, un altro input che possiamo prevedere, rilancio un attimo il programma. Allora, seguendo questo approccio 1, abbiamo una differenza sostanziale con l'approccio 2. La differenza sostanziale è che il punto da cui iniziare la nostra ricerca non è casuale, ma è ben predefinito. Cioè, se la mia parola è, supponiamo, Pippo, come al solito, io non inizierò a ricercare questa parola dalla prima casella a caso, ma posso all'inizio cercare se questa matrice contiene almeno la prima lettera di questa parola, perché altrimenti è inutile iniziare addirittura la ricorsione. In questo caso, questa matrice non contiene nessuna P, e quindi è inutile cercare Pippo su questa matrice. Questa invece ne contiene almeno una, e quindi la nostra parola Pippo andremo a ricercarla, non partendo dalla B, ma sappiamo che possiamo partire direttamente dalla P, ok? Quindi da questa seconda cella. Quindi come input possiamo prevedere di andare a ricercare la prima lettera fuori dal nostro processo ricorsivo, ok? Quindi come primo passo andrò a cercare se almeno la prima lettera esiste nella matrice, se è così partirò da lì per esplorare la matrice. Quindi supponiamo di conoscere anche, ce ne andiamo a cercare, la posizione della lettera iniziale. Ok, poi che cos'è una soluzione parziale? Beh, una soluzione parziale sarà la parte iniziale della parola, la parte già riconosciuta. Se io sempre sto cercando Pippo, al primo giro la soluzione parziale sarà composta dalla lettera P. Se per caso nelle lettere adiacenti, in questo caso no, ma se trovassi una I, la soluzione parziale, vado avanti, e la soluzione parziale sarebbe composta da PI. Quindi la soluzione parziale è la parte della parola già riconosciuta all'interno della matrice. Non basta, direi, perché alla fine della nostra ricerca noi vorremmo anche sapere, ad esempio, dove sono queste lettere. Banalmente questo potrebbe essere utile per, che ne so, illuminare il percorso dentro la matrice, per far vedere la parola all'interno della matrice. Quindi oltre alla soluzione parziale potrebbe essere utile tenere traccia del elenco delle posizioni in cui si trovano le lettere già riconosciute. Questo è utile oltre, come dicevo, per a posteriori visualizzare la parola sulla matrice, è anche utile perché una regola di Razzle, forse non l'abbiamo detta prima, è che ovviamente non si possono riutilizzare le stesse lettere. Quindi se una lettera l'ho già riutilizzata nella mia parola, non ci posso ritornare sopra. Ok? Quindi questo è un vincolo di Razzle che possiamo controllare tenendo traccia di questo elenco, di questo elenco qui. Perfetto. Beh, di conseguenza quale sarà la soluzione totale? La soluzione totale, se mai la troveremo, sarà la parola completamente riconosciuta. E di nuovo ci portiamo dietro sempre questo elenco di posizioni. Elenco di posizioni che servono per comporre la parola completa. E abbiamo visto perché sono utili queste posizioni. Perfetto. Poi abbiamo il livello, come al solito, questo c'è sempre. Che cos'è il livello nel nostro caso? Beh, è il numero di caratteri già riconosciuti. Ad ogni livello aggiungo un carattere, se il carattere rispetta determinate regole, e questo sta a significare anche il mio livello di ricorsione a cui sono arrivato. Qual è la condizione di terminazione? Beh, sicuramente mi fermo quando il livello ha raggiunto la lunghezza della parola che sto ricercando. Quindi se sono per pippo, se sono arrivato al livello o 5, mi fermo perché ho trovato la parola, 5 lettere e ho finito. Quindi quando il livello è uguale alla lunghezza della parola, questa è la mia condizione di terminazione. Inoltre, qui non siamo in un problema di ottimizzazione. Se io sto ricercando pippo e lo trovo, a me va benissimo quella soluzione che ho trovato. Magari nella matrice, nella stessa matrice, c'è un'altra volta pippo da qualche altra parte, seguendo qualche altro percorso. Ma a me non interessa, mi basta trovare la prima soluzione all'interno della matrice. Quindi un altro caso in cui mi fermo subito è se viene trovata la soluzione, si interrompe subito la ricerca. Molto bene. Come facciamo a generare delle soluzioni ad ogni passo? Beh, ad ogni passo io sto considerando una lettera, supponiamo la p di pippo, sono il primo giro, diciamo così, della mia ricorsione. Cosa vuol dire generare la prossima soluzione parziale? Beh, genero, non la prossima, le prossime soluzioni parziali cercando, trovando tutte le posizioni che siano adiacenti alla lettera, all'ultima posizione usata, che in questo caso è questa qui della p, quindi abbiamo queste lettere qui, devono essere adiacenti, ma non solo. Non basta che siano adiacenti, devono ovviamente contenere la lettera corretta, che in questo caso è la i, e già in questo caso non c'è, ma supponiamoci sia. E poi l'altro vincolo forte è che queste posizioni adiacenti non siano ancora state utilizzate, ok? Quindi prendo le lettere adiacenti, guardo solo quelle che non ho ancora utilizzate, tra queste cerco quella che contiene il carattere corretto, una o più, se c'è, se ci sono. Ok? Quindi trovare tutte le posizioni che siano adiacenti all'ultima posizione usata, contenenti la lettera, chiamiamola corretta, e ovviamente, come abbiamo detto, non ancora utilizzate. Questa è la generazione delle soluzioni passo passo. Avvio della ricorsione. Come avviamo la ricorsione? Beh, come vi ho detto prima, Qui, a differenza di altri approcci, facciamo partire la ricorsione da una posizione ben specifica, se esiste, che è la posizione nella matrice della prima lettera, ok? Quindi partiamo già da un livello che è uguale a 1. Io parto con la soluzione parziale già, diciamo così, riempita con un carattere, il primo della parola da ricercare. Quindi si parte da una posizione che contiene la prima lettera della parola. Infine, che strutture e dati ci servono? Beh, direi la stringa per memorizzare la parola. Il livello, direi, come sempre. E poi abbiamo detto che ci vogliamo portare dietro l'elenco di posizioni del percorso corretto che stiamo esplorando. E quindi possiamo pensare a una lista di pos, una lista di posizioni, corrispondente alla sequenza di caselle. Chiamiamo questa lista percorso. Ok. Questo è il ragionamento che cercheremo di applicare adesso nel codice. Ovviamente partiamo, come al solito, dal modello. Allora, potremmo impostare direttamente la ricorsione qua dentro, qua dentro al modello, ma forse è più pulito se utilizziamo una classe separata. Questo potrebbe anche essere utile per eventualmente riutilizzarla. Quindi mi vado a creare una nuova classe nel package model che chiamo, ad esempio, ricerca. Perfetto. All'interno di questa classe andrò a impostarmi la mia ricorsione. Quindi suppongo di avere qui un metodo pubblico che mi dica se una parola è presente o no nella matrice Razzle che sto utilizzando. Che parametri riceverà questo metodo? Beh, sicuramente la parola da ricercare. E direi anche la matrice su cui cercarla. Quindi board. Board. Ok. Abbiamo detto, non facciamo partire la ricorsione da una posizione casuale, ma come prima cosa andiamo già a filtrare molte, diciamo così, soluzioni non valide, dando vedere se la matrice contiene almeno la prima lettera della parola. Se sì, da lì farò partire la mia esplorazione ricorsiva. Come faccio? Beh, con un semplice ciclo for, vado a scorrere tutte le posizioni della mia board. For pose p board.get positions. Vedete come tornano utili i metodi già fatti e già presenti nel progetto di base. Questo metodo mi restituisce, non si vede, la lista di oggetti pos che corrispondono alle posizioni lecite sulla scacchiera. Tutte le posizioni della scacchiera. Per ogni posizione, cosa vado a fare? Mi vado a chiedere se il carattere corrispondente a quella posizione è uguale al primo carattere della mia parola. If, come faccio a recuperarmi il carattere relativo a quella posizione? Beh, glielo vado a chiedere alla board. La board contiene un metodo get sellValueProperty. Aspettate che così non si vede la documentazione che abbiamo scritto. Metodo setValueProperty fornisce la string property corrispondente a quella posizione specificata. Può essere usato per sapere che lettera è presente. Vi ricordo che, appunto, utilizziamo le property per semplicità, quindi questa get sellValueProperty della posizione P non mi restituisce direttamente una stringa, ma una proprietà che la include, ok? Perché c'è il binding con l'interfaccia grafica. Per passare dalla proprietà alla stringa vera e propria, bisogna fare un punto get. Vedete che questo punto get ritorna proprio una stringa. La stringa relativa alla string property alla posizione P, che è la posizione su cui sto ciclando. Con che cosa devo controllare questo, il carattere della cella? Con la prima, abbiamo detto, lettera della parola. Quindi parola, punto, char at zero. Allora, attenzione qui perché questo è un char. Questo è una stringa. Ovviamente non posso confrontare mele con pere. La soluzione più facile, forse, è trasformare questa stringa in un carattere. Questa stringa sarà sicuramente lunga 1, perché contiene il carattere all'interno della cella, e quindi posso trasformarlo in char con char at di zero. A questo punto sto confrontando due char, posso usare l'uguale uguale e non l'equals. Però bisogna sapere cosa si sta facendo. Usiamo l'uguale uguale perché sono dei char e possiamo farlo. Se questa if restituisce vero, vuol dire che almeno la prima lettera della parola è presente nella matrice, quindi posso iniziare la mia ricorsione. Questo è un inizio potenziale della parola. Faccio ricorsione. Come faccio a far ricorsione? Beh, dovrò sicuramente crearmi la struttura dati per tenere traccia della soluzione parziale. Direi che ci basta in questo caso la lista di posizioni, percorso, che andrà a contenere tutte le celle della parola, se io questa parola la troverò nella mia procedura. Importiamo un po' di cose. Dicevamo non partiamo da zero, ma partiamo già dalla prima lettera, quindi la nostra soluzione parziale conterrà già la prima lettera. Quindi percorso punto add di P. Parlo di lettera per semplicità, ma noi teniamo traccia delle posizioni. Se vogliamo poi risalire alla lettera abbiamo la bordo per farlo, ci basta salvarci le posizioni. Fatto questo, lancio la procedura ricorsiva. Quindi supponiamo di avere una funzione cerca, a cui passerò la mia parola da ricercare, il livello, il livello iniziale in questo caso è già uno, perché una lettera c'è già, poi passo la mia soluzione parziale percorso e direi anche la board. Se questa procedura ricorsiva andrà a buon fine, quindi supponiamo che ritorni un booleano, beh, vuol dire che ho trovato la parola. Ho trovato la parola, posso ad esempio direi restituire direttamente il percorso sulla matrice. Quindi magari cambiamo questo boolean in una lista di pos. Quindi se la trovo, ritorno il percorso. Se giro, 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 giro e non trovo mai niente, alla fine ritornerò ad esempio null. Vuol dire che non ho trovato nessun percorso corrispondente a quella parola sulla mia matrice. Il metodo cerca è ovviamente da fare, lo faccio generare da eclipse. a questa i direi chiamiamola livello, percorso e board. E qui andiamo veramente a impostare la nostra ricorsione. Allora, partiamo come sempre dal caso terminale. Allora, abbiamo detto che sicuramente ci dobbiamo fermare quando il livello è uguale alla lunghezza della parola. Se noi riusciamo a costruire un percorso lungo esattamente quanto la parola, beh, vuol dire che abbiamo trovato un percorso che modelli quella parola nella nostra griglia. Quindi se livello è uguale uguale a parola punto length, semplicemente ritorniamo vero. Abbiamo trovato un percorso che contenga la parola. Altrimenti siamo ancora in un caso intermedio. Cosa devo fare? Devo generare una nuova soluzione parziale e richiamare a sua volta la ricorsione. Come faccio? Beh, dobbiamo semplicemente tradurre il nostro ragionamento in codice. Dobbiamo prendere sicuramente le adiacenti, le celle adiacenti all'ultima posizione usata e poi dobbiamo filtrarle secondo queste due condizioni. Quindi devono contenere la lettera corrente e non devono ancora essere utilizzate. Allora, partiamo con il recuperarci l'ultima posizione utilizzata, quindi pos ultima uguale, dove la prendo dalla soluzione parziale, percorso punto get di percorso punto size meno uno. Questa è l'ultima cosa che ho inserito nella mia soluzione parziale. Data questa, mi prendo gli adiacenti. Ringraziando, la nostra board contiene già per noi un metodo per ottenere data una posizione tutte le posizioni adiacenti. Era già fatto, va benissimo, lo usiamo. Tanto era un metodo noioso da fare. Quindi get adiacenti di ultima. Prese le adiacenti, ovviamente le scorro e le filtro secondo i miei criteri. Quindi for pose P in adiacenti. Abbiamo detto che dobbiamo ricercare le lettere corrette, le lettere giuste, che non siano ancora state usate. Allora, possiamo subito chiederci se un adiacente è già stata utilizzata o no andando a vedere direttamente in percorso. Quindi se percorso non contiene l'adiacente, notate il punto esclamativo, il not, quindi se il percorso non contiene ancora l'adiacente, vuol dire che è potenzialmente valida, vado a controllare se è, diciamo così, corretta oppure no. Quindi se è presente nella parola oppure no. Come faccio? Beh, vado, confronto la lettera della parola, quindi parola.char at livello, cioè la prossima lettera della parola è uguale a la cella che sto considerando, la cella P che sto considerando, se sì vuol dire che è una parola valida. Cioè, scusate, per farmi capire meglio. La parola è pippo. Io nella mia soluzione parziale ho la P, mi sono preso le adiacenti, ora sto controllando tra le varie adiacenti una per una la V, percorso non la contiene ancora, d'accordo, e ora mi chiedo, la lettera V è uguale alla seconda lettera della parola, che in questo caso è la I? Direi di no. e quindi banalmente in quella IF non ci entreremo mai. Andrò avanti con la T. La T è uguale alla seconda lettera della parola, che sarebbe I? Sicuramente no, quindi vado a e così via. Ok? Quindi se la parola char at livello è uguale a board, andiamo a capo, di nuovo per ottenere il carattere devo usare get sellValueProperty P punto get, perché è una property, trasformo di nuovo come prima punto char at 0. Ovviamente questa non è una end ma è un uguale uguale. Quindi controllo se non l'ho ancora usata, controllo che sia, diciamo così, corretta. Se questo è il caso, faccio ricorsione. Posso continuare il mio percorso. Quindi aggiungo alla mia soluzione parziale percorso punto, niente, percorso punto add, P rilancio la ricorsione, parola, livello più uno, percorso e la mia board e ovviamente faccio backtracking. Percorso punto remove, percorso punto size di meno uno. Abbiamo detto però che se ovviamente se trovo tra le condizioni di terminazione, se trovo la soluzione, saluto tutti ed esco perché mi basta trovarne una. quindi se ricorsivamente questa cerca ritornerà a vero, return, in questo caso true, perché sto trovando la mia parola. Quindi questa è l'uscita rapida in caso di soluzione. Non è un problema di ottimizzazione, non ci sono soluzioni migliori di questa, basta trovarne una. Altrimenti se non trovo niente, ritornerò poi falso. Ok, direi che questo è il nostro processo ricorsivo, ripeto per l'ennesima volta, questo è un, abbiamo diviso il nostro problema in due step, un processo ricorsivo capace di dirmi se una determinata parola è presente o no all'interno della matrice e poi la nostra idea è di andare a utilizzare questo processo ricorsivo per tutte le possibilità che io ho, quindi per tutte le parole valide del dizionario, iterativamente. Tutte le parole che, diciamo, ritorneranno vero a questa procedura ricorsiva saranno quelle contenute nella mia matrice e quindi risolverò il razzol in questo modo. Però questo era il senso di avere questa area di testo per provare singole parole in modo tale da poter provare questo step basilare del nostro approccio, data una parola a dire se è presente oppure no. Beh, possiamo provare a collegare questa procedura innanzitutto al modello, quindi mi immagino di avere un metodo trova parola nel modello a cui passerò ovviamente la parola. Anche perché il riferimento alla board ce l'ho io qui nel mio modello e quindi questo metodo semplicemente richiama, anzi prima si crea un'istanza della classe ricerca e poi ne richiama il suo metodo trova parola, a cui ovviamente oltre alla parola passo il riferimento alla board che ho in pancia qui nel modello. Return ovviamente. Ok, proviamo a collegare questo primo aspetto al controllore. Apro il controllore. E nel metodo handle prova che è il metodo collegato a questo primo bottoncino qua per provare singole parole per volta, una per volta, in particolare la parola che c'è qui, colleghiamo al metodo che abbiamo appena fatto. Allora, cosa devo andare a fare? Ovviamente devo andarmi a recuperare la parola inserita dall'utente in questo caso. Quindi string parola uguale txt parola appunto get text. Come al solito qui ci sta tutto il controllo degli errori. vediamo cosa possiamo scrivere. Innanzitutto un primo controllo è dato da direttamente da una regola di Razzol che forse non abbiamo accennato prima ma in Razzol le parole valide sono di almeno due caratteri. Quindi singole lettere non valgono come parole quindi possiamo subito controllare se l'utente non ha inserito nessuna stringa o ha inserito un singolo carattere quella è una parola non valida già di per sé possiamo stampare direttamente un messaggio d'errore. Quindi if parola punto length minore uguale di 1 possiamo stampare ad esempio l'errore in txt result set text devi inserire parole di almeno due lettere return poi un altro controllo un'altra trasformazione dell'input che possiamo fare è questa visto che le nostre caselline contengono tutte lettere maiuscole e noi andiamo a confrontare queste caselline con le lettere della parola tanto vale trasformare subito la parola tutta in maiuscolo quindi possiamo farlo tramite il metodo to uppercase quindi trasformo la parola in maiuscolo e la salvo di nuovo in parola ok questo è il senso di questa di questa istruzione un altro controllo che si può fare è che ci siano solo caratteri alfabetici tra la a e la z lo possiamo fare tramite un'espressione regolare dovreste già averla vista mi pare in qualche laboratorio sostanzialmente usiamo il metodo matches della classe string quindi possiamo dire che se la nostra parola notate il punto esclamativo non match un ben determinato pattern che decidiamo noi stampiamo l'errore quindi se la nostra parola non match che cosa qui dobbiamo inserire la nostra espressione regolare vogliamo dire se la nostra parola non è fatta di caratteri alfabetici come faccio a definire i caratteri alfabetici in un'espressione regolare tra parentesi quadre definisco il mio range di valori possibili in questo caso i caratteri tra la a e la z maiuscoli perché intanto ho trasformato tutto in maiuscoli ok ma ovviamente possiamo averne più di uno in una parola di questi caratteri e quindi aggiungo il più quindi se la mia parola non match questa espressione regolare che significa uno o più caratteri tra la a e la z allora stampo un errore set text devi inserire solo caratteri alfabetici return se tutto va a buon fine posso provare il nostro metodo per vedere se questa parola è presente oppure no nella nella mia matrice ovviamente ci potrebbe venire il dubbio ma qui potremmo controllare già se questa parola c'è nel dizionario oppure no perché se non c'è già nel dizionario è inutile cercarla nella matrice perché non sarà una parola valida in realtà però noi come già detto non stiamo facendo un gioco per l'utente ma lo vogliamo far risolvere al computer e per l'approccio che abbiamo pensato questo passo verrà dopo cioè io dopo proverò non le parole che scrivo a mano ma solo le parole valide quindi fare questo controllo qui adesso è abbastanza inutile quindi provo subito a vedere se questa parola c'è o non c'è tanto per testare la nostra procedura ricorsiva quindi list percorso uguale model punto trova parola della parola inserita dall'utente importiamo list ok adesso poi magari lo colleghiamo in modo migliore ma tanto per vedere che tutto funzioni anche perché stiamo scrivendo codice senza testarlo quindi probabilmente ci saranno milioni di eccezioni se percorso è diverso da null provo direttamente a stamparlo sulla console else stampiamo nell'area di testo ad esempio parola non trovata vediamo se funziona oppure no proviamo a lanciare il nostro programma ci facciamo generare una matrice ok il pulsante reset come forse hai già detto in realtà mi sto confondendo un po' perché come vi ho detto ho registrato questa cosa due volte quindi non so se questa cosa l'ho detta prima o no grazie al binding la reset resetta l'istanza della classe board quindi resetta i valori delle singole celle e questi valori sono dinamicamente diciamo così riflessi sul testo del bottone senza dover fare una set text sui vari bottoni cerchiamo qualche parola ora è abbastanza difficile trovare delle parole di senso compiuto in queste griglie generate casualmente banalmente perché come ben saprete non tutte le lettere hanno la stessa frequenza nelle parole italiane ok ovviamente la lettera k c'è molto poco nel vocabolario italiano noi però avendo generato dei caratteri casuali con la stessa probabilità abbiamo con la stessa probabilità la k rispetto alla a che è molto più frequente quindi sicuramente un miglioramento che si potrebbe fare a questo gioco sarebbe quello di generare queste matrici casuali secondo una certa logica cioè ci dovrebbe essere più probabilità di avere una lettera a rispetto a una lettera k questo potete pensarci provare a farlo ma non è il nostro scopo almeno nel video di oggi la parola no mi sembra abbastanza di senso compiuto vediamo se la trova la parola no dovrebbe esserci ok nessuna eccezione questo è già un piccolo miracolo effettivamente ha trovato il percorso giusto direi quindi la prima lettera alla la riga 0 colonna 2 effettivamente questa n e la seconda lettera riga 1 colonna 2 proviamo noe la trova come vedete questa parola ci sarebbe che no si noe potrebbe vediamola così c'è due volte qui perché c'è sia questa che questa ok ovviamente lui me ne stampa una perché abbiamo detto la prima che trovo va bene ok in questo caso ho trovato questa perfetto se noi proviamo una parola che ovviamente non c'è mi stampa parola non trovata bene sono molto contento proviamo però a collegarlo al controller in modo un po' più furbo se avete mai giocato razzle quando trovate la parola in qualche modo lui vi illumina il percorso che avete il percorso corretto che avete seguito quindi un'idea potrebbe proprio essere colorare i nostri bottoni corrispondenti alla parola ci sono molti modi di farlo non molti ma ci sono diversi modi di farlo ma per evitare di agire su css vari eccetera e di impazzire potremmo sfruttare una proprietà che hanno tutti i bottoni vi faccio vedere che è questa qui la proprietà default button che se impostata a true vedete che ne cambia il colore del bottone e noi potremmo pensare di impostare questa proprietà sui bottoni del percorso corretto per diciamo così illuminarli allora al posto di stamparlo coloro i bottoni bottoni corrispondenti alle posizioni del mio percorso che ho trovato quindi devo ovviamente scorrere le posizioni trovate 4p in percorso come faccio ad andare a recuperare il bottone associato beh ve ne parlavo all'inizio il controller ha questa mappa letters che serve proprio per modellare questa corrispondenza tra i bottoni dell'interfaccia grafica e le caselle della board in cui ogni cella ogni ogni chiave è una posizione della della matrice e ogni valore è il suo bottone corrispondente l'abbiamo impostata qui nella set nella set model beh io allora posso dire posso andarmi a recuperare il bottone dalla mappa letters punto get la posizione p questo mi dà il bottone e io ne imposto la proprietà di default a true ovviamente ogni volta che provo una parola dovrò eventualmente cancellare quello che avevo control illuminato diciamo così in precedenza quindi io per non saperne leggere né scrivere tutte le volte che clicco sul bottone reimposto tutti i bottoni quindi faccio un refresh nell'interfaccia grafica come faccio beh per tutti i bottoni imposto la set default button a false quindi for button b in letters punto values b punto set default button a false andiamo un po' a vedere se funziona genero qui mi sono anche sempre stato scarso questo gioco su proviamo la parola su ok l'ha trovata proviamo su jn anche se non è una parola italiana sembra funzionare se io provo una parola che non esiste mi stampa parola non trovata molto bene quindi direi che questa parte ricorsiva funziona ci resta ci resta solamente da impostare risolvi tutto che però in questo modo è abbastanza con questo approccio è abbastanza semplice perché la parte complicata ricorsiva l'abbiamo già fatta cosa fa l'endl di risolvi tutto beh prova tutte le parole presenti nel dizionario prova a vedere se sono presenti nella nella matrice alla fine questo lavoro ovviamente lo farà il model quindi io qui mi definisco una lista di stringhe tutte e chiedo al modello per favore trovami tutte le soluzioni trova tutte perché tanto è lui che ha riferimento alla board sa tutto lui quindi controllerà e mi restituirà la lista di tutte le parole trovate poi andiamo a fare questo metodo supponendo di avercelo io pulisco l'interfaccia grafica scusate l'area di testo e vado a stampare le mie le soluzioni trovate magari all'inizio stampiamo quante ne abbiamo trovate append text ad esempio string punto format ho trovato per cento di soluzioni slash n tutte punto size ok oltre a stampare questo proprio stampo tutte le soluzioni quindi for string s in tutte txt result punto append text s più slash n adesso dobbiamo generare questo metodo e come detto già n volte cosa fa questo metodo scorre tutte le parole del dizionario dis punto dizionario dizionario che avevamo letto all'inizio qui nel costruttore del modello quindi ce l'abbiamo già e per ogni parola va a vedere se è contenuta oppure no nella matrice quindi if abbiamo già il metodo trova parola quindi if this punto trova parola di p se è vero ok ah ok quel metodo non restituisce un booleano ma restituisce il percorso quindi se è diverso da null vuol dire che quel metodo ricorsivo ha trovato un percorso ce l'ha restituito quindi non è null la parola effettivamente c'è nel nel dizionario noi non vogliamo tenere traccia del percorso in questo caso perché il nostro programma dovrà provarle tutte senza andare a illuminarle eccetera ma solo stamparci le parole quindi non dobbiamo tenerne traccia ma dobbiamo tener traccia della parola quindi mi creo una lista di stringhe tutte new array list string e la vado a salvare qui quindi tutte punto add p devo importare array list e alla fine ritorno tutte ovviamente noi nel nostro nella nostra prova con le parole scritte a mano abbiamo fatto dei controlli e delle trasformazioni sull'input beh queste cose le possiamo fare le dobbiamo fare anche quando proviamo una parola del dizionario perché banalmente nel dizionario ad esempio le lettere sono salvate in minuscolo e quindi sicuramente la devo trasformare p uguale p punto to uppercase poi se non mi sbaglio anche il dizionario contiene le singole lettere come parole abbiamo letto che una regola di razzo è quella che le parole debbano essere costituite da almeno due caratteri quindi possiamo fare anche questo controllo anche qui quindi if p punto length maggiore di 1 vado a testare la parola solo se ha una lunghezza maggiore di 1 e direi che il metodo è fatto proviamo un po' a lanciare il programma generiamo la matrice e proviamo a cliccare su risolvi tutto ok sembra funzionare ha trovato 44 soluzioni che è già tanto vedendo questa matrice che voi ci crediate o no tutte queste parole sono parole italiane almeno secondo il nostro dizionario quindi sono parole contenute nel nostro dizionario una delle poche che abbia senso Ugo comunque sembra funzionare ed è molto veloce cioè abbastanza veloce quindi direi che questo approccio 1 va più che bene era il più semplice concettualmente e ci permette di arrivare a una soluzione in un tempo ragionevole questo perché come detto la dimensione del problema è intrinsecamente piccola stiamo parlando di una matrice 4x4 in cui non esploro tutte le possibilità ma appena trovo ad esempio una soluzione esco dalla ricorsione e non vado avanti quindi essendo il problema limitato anche un approccio così che probabilmente di complessità esponenziale ci va bene ok dovessimo già avere delle matrici più grandi allora a quel punto forse bisognerebbe stare attenti a a scegliere l'approccio l'approccio giusto direi che possiamo chiudere qui sperando che questa volta tutto vada bene con la registrazione spero di essere stato chiaro ovviamente se avete domande sentitevi liberi di contattarmi contattarci tramite telegram mail grazie per l'attenzione buona serata grazie per l'attenzione